Buongiorno a tutti e ben ritrovati al nostro tutorial per l'utilizzo di Sinutrain della Sinumeric sul 840D. Abbiamo affrontato già bene o male tutti quelli che sono le possibili opzioni di programmazione con Sinutrain, chi ha seguito il mio tutorial è in grado di fare un po' tutto. Mi è stata fatta una richiesta da alcuni di voi che al momento la richiesta non utilizzavo, cioè utilizzare i DXF. Ho cercato un po' di ottemperare la vostra richiesta facendo delle prove. Io ritengo che in tornitura partire da un DXF a volte sia più complesso di quanto non sia utilizzare la programmazione conversazionale. Detto questo, conoscere tutte le potenzialità di un controllo numerico può far solo che pene. Poi dipende anche dai software che si hanno a disposizione, diciamo, in quello che sarà il nostro ufficio tecnico. Ho notato, ho visto, smanettando un po' con il Sinumeric, che la possibilità di partire da un DXF è presente sia per quanto riguarda la tornitura, sia per quanto riguarda la fresatura. Quindi facciamo degli esempi. Partiamo dalla fresatura di una tasca. Io mi sono disegnato questo profilo che ho quotato sommariamente nei due ingombri principali. Quindi ho un profilo che occupa 250 mm in un senso e 224 mm nell'altro senso. E ho pensato che in un caso come questo, effettivamente, a partire dal CAD, dal disegno DXF, è effettivamente più comodo che costruirsi tutto il profilo. Bene, andiamo nel nostro Sinutrain, andiamo in Program Manager e in Pezzi. Cominciamo col creare un nuovo programma, che chiameremo DXF, con tutta la fantasia del mondo, in ShopTurn, definiamo un cilindro diametro 3,50 mm, accettiamo, e vediamo come si può creare una tasca di testa partendo dal DXF. Quindi, ovviamente, entreremo in quello che è il nostro menu di fresatura e andremo a chiedere, fresa un profilo. Nel chiedergli di fresare un profilo, lui mi dice, vuoi un profilo nuovo oppure vuoi un profilo prestabilito? Noi creiamo un nuovo profilo, abbiamo ricreare, che è la solita possibilità di disegnare il profilo, o importare da DXF. Allora, importiamo da DXF, diamo un nome, premiamo Enter, nel premere Enter la macchina ci porta in quelli che sono, diciamo, i dischi rigidi a cui lei può accedere, possa essere la chiavetta, possa essere il disco rigido di sistema in questo caso. Noi andiamo laddove io ho salvato il DXF chiamato profilo, eccolo qua. Ora, mi chiede di definire un punto di riferimento. Posso andare a scegliere un elemento, ok, e quindi definirle l'inizio o la fine, oppure con il cursore, in questo caso, oppure ho l'immissione libera, in questo caso, per esempio, può essere X0, Y0, gli diamo l'ok, e dobbiamo andare a selezionare un elemento, quindi, nel premere il tasto Selezione Elemento, vedete che lui prende in considerazione anche le linee di quotatura. Io seleziono l'elemento a cui voglio partire, e lui mi chiede, vuoi partire dal punto iniziale, l'elemento, dal punto finale, vedete che si sposta il cursore blu, o dal centro elemento, io consiglio sempre di partire da il punto iniziale. Detto questo, se ci fossero dei cerchi particolari, dei profili particolari, si può partire anche dal centro dell'elemento. Una volta selezionato l'elemento di partenza, io premo ok. Attualmente lui si sposta sull'elemento che viene in sequenza. Io lo accetto. Vedete che, in maniera molto intelligente, Sinumeric mi permette di accettare tutti gli elementi. Perfetto. Lui riconosce che c'è un profilo. Di conseguenza, se io voglio andare a selezionare elementi al di fuori del mio profilo, devo andarli a selezionare manualmente. L'ideale, comunque, è sempre pulire completamente il disegno. Noi abbiamo accettato tutti gli elementi, di conseguenza andiamo ad accettare il profilo. Hai terminato l'acquisizione? Mi chiede. Sì, l'ho terminata. Ecco qua il mio profilo disegnato. Lo accettiamo e lo porta all'interno del mio programma. Rifacciamolo. Quindi, andiamo a cancellare questa data, questa linea di programma. Quindi, noi vogliamo fresare. Ricapitoliamo. Fresatura. Nuovo profilo. Importare. Abilitiamo importare dal DXF. Diamo un nome al profilo. Andiamo a richiamare il file DXF che definisce il mio profilo. Ok, ognuno lo avrà salvato in una parte del PC o del CNC che preferisce. Quindi, si va sul file profilo DXF e gli si dà l'ok. Bisogna ora stabilire il punto 00, ok, rispetto al disegno. Quindi, definire punto di riferimento. Possiamo usare il cursore, possiamo andare a premere un elemento, possiamo andare a digitare delle coordinate. Per semplicità, in questo momento io utilizzo il cursore. Ora devo andare a selezionare un elemento. L'elemento lo posso selezionare sia col mio cursore, sia, sta facendolo stabilire a CNC. L'unica cosa che mi chiederà il CNC è, ma qual è il punto iniziale a cui partiremo a lavorare? Il punto iniziale elemento, il punto finale o il punto di centro? Noi utilizziamo il punto iniziale, dopodiché gli diamo l'ok. Lui si sposta sul secondo punto che lui ritiene essere appartenente al profilo, altrimenti dovrò andare a delinearli io, ma non va bene. Quindi accetterò l'elemento fino al momento in cui io voglio proseguire il profilo. Potrei anche eseguire un profilo parziale per poi andarlo a continuare nel mio disegno. Quando mi ha chiuso il profilo lo accetto e termino l'acquisizione. Ecco che entriamo nel mio profilo. Vedete che qua stavolta ho dimenticato un pezzo. Purtroppo mi tocca rifare da capo, ma visto che stiamo qua per imparare, non ci fa senz'altro male. Quindi, tacete. Nuovo profilo. Importare da DXF. Diamogli il nome. Profilo. Andiamo a selezionare il file. Profilo di DXF. Definiamo il punto di riferimento su cui lui si calcolerà tutti i suoi dati. Selezioniamo un elemento. Lo accettiamo. E andiamo ad accettare tutti gli altri elementi. Perfetto. Vedete, dovete chiudere la figura. Non fare come ho fatto io prima che ho dimenticato l'ultimo raggetto. Accettiamo il profilo. E terminiamo l'acquisizione. Adesso vediamo che il profilo è chiuso. Quindi, lo accettiamo. E andiamo a dire alla macchina, bene, su questo profilo fammi una lavorazione di fresatura. In questo particolar caso, io voglio fare una tasca. Quindi, andrò a selezionare una fresa. Io qua, andiamo a vedere cos'è la fresa 10. Fresa 10 è una fresa a raggio 10. Perfetto. Diametro 10. Perfetto. Gli diamo il nostro ok. I soliti dati di taglio. Il nostro incremento in profondità. La profondità della nostra tasca, 10 mm. Il nostro incremento in profondità, facciamo 5, se no ci mette una vita. E scegliamo se vogliamo fare una sgrossatura, un passaggio di fondo, un passaggio di bordo. In questo caso facciamo una sgrossatura perché noi non ce l'abbiamo. E poi queste sono tutte le varie variabili che già vi avevo insegnato bene o male nei precedenti tutorial. Quindi, accettiamo e simuliamo. Incremento nel piano, troppo grande, restano creste residue. Olla! Cosa vuol dire questo? Andiamo a vedere. Cagliamo un po' le profondità. Probabilmente ho esagerato un po' con le asportazioni. Accettiamo e simuliamo. Avevo un po' esagerato quella asportazione rispetto al diametro fresa. E difatti vedete che adesso comincia a lavorarmi il mio profilo. Ecco, io ho creato un profilo, diciamo, adcazum, senza nessun significato e senza nessuna lavorazione particolare. Però questa tipologia di importazione di XF vale per qualsiasi profilo noi volessimo andare a realizzare. Ecco, concludo la lavorazione e come vedete il gioco è fatto. Torniamo in edit. Cancelliamo tutto. Andiamo a prendere il mio cilindro. E apriamo un attimo il nostro CAD. Chiudiamo profilo. Vedete questo mozzo? Ve lo faccio vedere solo per un attimo perché è un disegno reale. L'ho pulito dalle quote. Ok, l'ho pulito dalle quote. E adesso voglio andare a eseguire una tornitura del profilo esterno. Molto semplice. Bene, dopo aver ridimensionato correttamente il grezzo, cosa che ormai immagino siete bravissimi a fare, andiamo in tornitura profilo. Il procedimento è lo stesso che abbiamo visto in fresatura. Quindi, nuovo profilo, importare da idxf, lo chiameremo mozzo. Accettiamo. Andiamo a cercare il nostro file là dove precedentemente sappiamo di averlo messo. Eccolo qua. Mozzo.dxf. Ed ecco il nostro bel disegno. Anche qua dobbiamo definire un punto di riferimento. Abilitiamo centro elemento e il punto di riferimento sarà sempre il nostro Z0. Quindi la faccia su cui vogliamo costruire il nostro punto di riferimento in tornitura. Ovviamente in tornitura, almeno per me che sono torniture puro, è tutto molto più facile. Ora andiamo a selezionare gli elementi riguardanti la nostra tornitura. Io voglio partire a lavorare da questo smussetto, quindi vado a selezionarmi lo smussetto. Gli do l'ok e poi andrò a accettare tutti gli elementi fino al punto in cui voglio effettuare la mia tornitura. Perfetto. Accetto il profilo e termino l'acquisizione. Ecco qua il profilo di tornitura esterna. Lo accetto e altro non vado a fare, come nei precedenti video in cui il profilo lo avevo disegnato direttamente all'interno di Sinutray, una sgrossatura. Bene o male dovrebbe essere già compilata perché l'ultima volta ho utilizzato un utensile a 80 gradi, i parametri me li faccio andare bene, eseguo solo la sgrossiatura, accetto e simulo. Troppo veloce, andiamo a diminuire, controllo programma e start. E come vedete verrà rispettato il profilo realizzato precedentemente sul CAD in ufficio. Ecco che non è nulla di particolarmente difficile. Dopodiché bisogna adattare un po' alle esigenze e alle varie lavorazioni tutto quello che abbiamo visto in questo video. Ma fondamentalmente partire da un DXF con Sinutray direi che è piuttosto facile. Spero che ciò che vi ho mostrato in questo video sia stato di vostro interesse. Se lo è stato, come sempre, lasciatemi un mi piace oppure fate finta di niente. Grazie e alla prossima. Buona giornata a tutti.